Ciao a tutti ragazzi, questo video ovviamente non è di nessuna stupidaggine, vabbè delle canzoni è una cosa veramente molto importante che mi ha fatto veramente rimanere male e anche un po' giù di morale l'argomento è il coronavirus, ragazzi non allargiamoci, non spaventiamoci perché se noi rimaniamo uniti possiamo sempre fare il nostro meglio per migliorare la situazione o alcune fasi che potrebbero, cioè alcune fasi che vi spiegherò lavarsi spesso le mani, non toccarsi occhi, bocca o vabbè poi mantenere le distanze di almeno un metro con le persone sconosciute e anche quando uno vi dice ciao, non diamo la mano, non diamo la mano però al posto di dare la mano possiamo dare il gomito, tipo quello che ho fatto io sempre con le persone quindi ragazzi state veramente sereni perché questo messaggio lo mando a tutte le persone di stare veramente molto sereni perché se noi rispettiamo le regole del coronavirus possiamo superare questa, questo livello chiamiamolo livello ma non c'è livello di nessuna cosa chiamiamolo livello quindi ragazzi questo video era solo per annunciare beh anche se io non sono nessuno per dirvi le cose però volevo darvi un messaggio un po' chiaro magari per chi non guarda tanto il telegiornale, la televisione volevo solo annunciarvi questa cosa ragazzi state veramente sereni anche io mi devo un po' una calmata perché sono un po' allarmato per questa situazione ma mia mamma, lei mi ha dato di stare veramente molto tranquillo anche i miei familiari mi dicono tutti di stare molto tranquilli perché tanto la situazione, allora la situazione sta peggiorando è vero lo dico veramente, sta peggiorando però noi dobbiamo cercare di essere forti di essere uomini e anche donne di non allarmarci perché noi possiamo veramente farcela di migliorare questa situazione del coronavirus quindi questo era il messaggio raga e dopo questo vabbè ciao